Sintetizzo le immagini per mostrare con la scusa dell'ecotreno rotabili movimenti e transiti di quel già lontano 1994 e lascio pure i brevi testi originali semipirota mazinga carrozze di bre ben bene miste tigre 633 in coda i bre originale le prime elettroniche e alle tigri ci si abitua subito è del 1959 la 645 002 loco articolata a 6 assi reo statica vecchio stampo 12 motori da 360 kilowatt 3780 kilowatt di potenza con una appena riqualificata tartaruga eccolo l'euro city guarda nella sua versione originale vivace livrea di 1668 sul tronchino 1 della brescia edolo dietro manovra copia di D343 livrea d'origine mi ascolto il recupero di materie prime consente un risparmio di risorse ambientali come vettore per il trasporto dei rifiuti da riciclare dalle zone di raccolta agli impianti di trattamento è da rilanciare il treno mezzo ecologico sicuro ed economico per eccellenza questo è il messaggio dell'ecotreno che ha percorso i binari della snft ora ferrovie nord milano da idolo a brescia per una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione dell'opinione pubblica e aggiungevo ciascuno di noi in media getta via quotidianamente un chilo di rifiuti da subito la prima cosa a farsi è ridurne alla fonte la produzione eliminando i contenitori inutili poi viene la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti urbani come vetro, carta, alluminio, plastici, oli vegetali, fibre esaurite e tutto questo per un loro riciclaggio titolare degli spostamenti del convoglio dimostrativo la D343 1034 inconsapevole del suo andar semidistrutta nell'ancora lontano 5 novembre 2009 poi anche demolita solo per leggerezze umane in servizio la snft società nazionale ferrovie e tramvie ha cessato di esistere a fine 1992 confluendo nella sua parte ferroviaria nelle ferrovie Nord Milano esercizio in servizio Fiat Carroviaria, anno 1987, Reichstahlwagen, carrozza ex Svizzera. Fiat Carroviaria, 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 carrozza ex Svizzera. Grazie.